Eserie A, il Media Day, il LA SuperCoup Cosa aspettarsi? Dopo il successo dei roadshow, la Eserie A Team torna con due giornate di eventi e sfide. Martedì 10 e mercoledì 11 gennaio gli studi di Via Deruta 20 a Milano vedranno il completamento delle erose e delle 14 formazioni partecipanti e le prime sfide ufficiali che decreteranno il vincitore della prima edizione della EA Sports SuperCoup. Le squadre che parteciperanno alla Eserie A Team 2023 saranno Bologna FC 1909 e Sports Stati Uniti Cremonese e Sports Empoli e FC e Sports Fiorentina e Sports E Las Verona FC e Sports Juventus Dsire e Stati Uniti Lecce e Sports C Monza Team e Sports U. S Salernitana 1919 e Sports Sampdoria e Sports Sassuolo e Sports Spezia e Sports Torino e FC e Sports Udinese e Sports D-Link. Martedì 10 gennaio saranno svelati i giocatori provenienti dal draft, selezionati dalle 14 formazioni che prenderanno parte alla Eserie A Team e saranno quindi formalizzate le rose definitive delle squadre. Mercoledì 11 gennaio, invece, verrà disputata la EA Sports SuperCoup. Questa grande novità della stagione vedrà tutti i team affrontarsi in un torneo a eliminazione diretta. 12 squadre prenderanno parte al primo turno, mentre Torino FC e Sports U.S. Salernitana 1919 e Sports scenderanno in campo a partire dai quarti di finale, in virtù del piazzamento in classifica al termine della scorsa stagione della Eserie A Team. I match saranno tutti in gara secca, tranne la finale che prevede andata e ritorno. virgola.